Oggi vediamo insieme come fare il burro chiarificato fatto in casa nel forno. Avrai bisogno di una bacinella adatta per il forno e del burro a tua scelta. Aprilo, posizionalo nella vaschettina per il forno e preriscalda il forno a 100 gradi. Dopo circa 20 minuti la parte bianca chiamata casina che non ci interessa, come vedete, si è depositata tutta sul fondo ed è questa la parte che andremo a eliminare. Aiutandovi con un colino o con uno straccio bello pulito andremo a travasare il nostro prodotto ottenendo e ricavando solo il nostro burro chiarificato. Dovete farlo con molta pazienza e con molta calma. Facendolo piano andiamo a travasare, come vedete, e la parte bianca sarà questa. Come vedete è rimasto ancora del burro chiarificato che non riesco a togliere perché sennò la parte bianca mi scivola nel mio vasetto. Se riuscite a farlo, anche con un cucchiaio, potete tranquillamente farlo. Questo è il nostro burro ottenuto. Lo facciamo raffreddare e poi lo conserviamo nel frigorifero. Vedrete poi come andrà a solidificarsi e poi potrete utilizzarlo per tutto ciò che volete, per fare il vostro bulletproof coffee, per fare le torte, per fare plum cake, come un burro normale. Ora è liquido, è ancora tiepido. Lo chiudiamo e lo lasciamo nel frigorifero. Grazie. 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 Grazie.